vediamo oggi la configurazione del nostro encoder per prima cosa cosa bisogna avere sull'encoder bisogna avere un classico segnale a b per poter effettuare la configurazione e averlo installato all'interno del nostro inverter inserito tale scheda occorre quindi andare a configurarla bisogna andare quindi nelle impostazioni complete nel menu dedicato della configurazione dell'encoder che ci comparirà soltanto quando andremo a inserire una scheda dedicata e all'interno andiamo a definire il nostro encoder quindi nel nostro caso avremo un encoder a b andiamo inserire all'interno la tensione dell'encoder che nel nostro caso sarà un 5 volt attiviamo il nostro encoder per definire che cosa deve fare quindi la regolazione della velocità e andiamo a lanciare la verifica dell'encoder come si effettua la verifica dell'encoder una volta impostato su sì questo parametro andrò fisicamente a chiudere il mio comando di marcia e a dare un valore di frequenza maggiore di 15 hertz per poter fare il check dell'encoder in questo caso se l'encoder e il check va a buon fine io avrò come dicitura fatto ok vediamo quindi che il nostro encoder è stato eseguito correttamente a questo punto andiamo a a verificare che il nostro encoder lega correttamente e andiamo quindi a monitorare la frequenza uscita motore che sarà quindi la frequenza dell'encoder con la frequenza motore quindi quella letta dall'inverter in questo caso vediamo che la frequenza è perfetta questo vuol dire che l'encoder funziona correttamente grazie 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 grazie